Tutti assolti, non ci sono colpevoli per la morte di Sergio Botti, l'84enne di Castiglion Fiorentino, massacrato di botte all'interno dell'ospedale della Fratta, dove era ricoverato nel reparto di medicina generale. Era il 9 luglio 2014, quando l'anziano fu aggredito da un paziente psichiatrico, che dopo essere riuscito a sfuggire controlli, fece irruzione nella camera dell'anziano e saltò con violenza sopra il suo letto. L'84enne morì circa un mese dopo, mentre l'aggressore si gettò dalla finestra della casa di cura, dove si trovava, morendo qualche tempo dopo. Dalla tragedia nacque un'indagine, a processo finirono così tre medici per i quali adesso arriva la soluzione, perché il fatto non sussiste sia per il responsabile del centro di salute mentale della Valdichiana, difeso dall'avvocato Luca Fanfani, che per il direttore del presidio ospedaliero della Fratta, assistito invece dall'avvocato Viciconte, assolta perché il fatto non costituisce reato anche l'altra dottoressa coinvolta, assistita dai legali Braca e Pernazza. Il processo era stato avviato con l'ipotesi di accusa di concorso in omicidio doloso. Il PM Giulia Maggiore aveva chiesto sei mesi di reclusione per ognuno dei tre sanitari.